Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Uomini e donne, abbiamo la prima scelta della stagione. Tra l'addio di Manuela Carriero, sostituita da Ida Platano, e l'indecisione di Brando, Cristiana ha concluso il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Martedì 23 gennaio, è andata in onda la puntata conclusiva e questa volta la scelta è avvenuta in esterna, non in studio e per chi non lo sapesse il giovane tronista romano ha deciso di uscire dalla trasmissione con Valentina. Che ha risposto di sì. Per Valentina e Cristiana è quindi iniziata una nuova favola e, dopo la dichiarazione in solitaria, la nuova coppia è entrata in studio, dove non era presente l'altra corteggiatrice, Virginia. Visto che la scelta si è svolta in maniera diversa dal solito, non ha stupito più di tanto che l'altra ragazza non fosse in trasmissione, per cui non è andato in onda il momento in cui Cristian le ha comunicato che lei non sarebbe stata la sua scelta. Tornando alla coppia, quando è arrivata davanti a Maria De Filippi, tutti si sono commossi, persino Tina Cipollari era in lacrime. Anche il pubblico da casa crede molto in questa nuova storia e infatti i commenti sui social sono stati quasi tutti positivi. Ma cosa è successo dopo? Ovviamente alla scelta sono seguiti la consueta intervista dietro le quinte e il primo selfie. La cosa che mi piace di più di lui è la sua spontaneità, il suo essere buono e sincero ed è una cosa che cerco e che non ho avuto prima. Io prometto che sarò sempre me stessa. Nel senso che a volte, quando dai tanto ad una persona, hai paura di non ricevere. È importante dare quello che senti, io mi riprometto di farlo e spero sia reciproco, ha detto lei alle telecamere di Witty TV. Ora entrambi sono tornati sui social, anche se hanno entrambi i profili privati. Lui ha pubblicato una foto che ritraeva il momento della scelta, accompagnato da una frase tratta dalla canzone di Giordana Angie, Siccome sei, e siccome sei tutto, io sono soltanto una parte di te. Valentina, invece, ha pubblicato nelle storie di Instagram una foto che la ritrae mentre bacia il tronista che, a sua volta, l'ha condivisa con i fan.